Si chiama Maiedine Mechissi Benabad e si è aggiudicato la medaglia d'oro per quanto riguarda gli europei di atletica leggera a Berlino in gara. Un traguardo importante quello del giovane francese in questione che sale nel gradino più alto del podio. Secondo posto invece quindi medaglia di argento per Fernando Carro uno spagnolo e invece al terzo posto quindi in terza posizione con una strameritata medaglia di bronzo il buon Ioannes Chiappinelli. Quindi l'Italia nella gara dei 3000 siepi di atletica leggera di Berlino in questi europei del 2018 nella fattispecie concreta dell'estate. Bene bene benissimo vi ringrazio in primis per la visione vi ringrazio in secondis per l'ascolto congratulazioni vivissime al buon Benabad per aver vinto questo premio con la medaglia d'oro in questi europei di atletica leggera di Berlino 2018. 2018 iscrivetevi commentate un cordiale saluto e al prossimo video.